È possibile tramite la pasta far conoscere le peculiarità del nostro Abruzzo? La risposta è sì, ed è tutta racchiusa nel nuovo spot ideato da Rustichella d'Abruzzo, pastificio che affonda le sue radici addirittura nel lontano 1924. La mission della famiglia Peduzzi è basata da sempre sulla tradizione e sulla cultura della propria terra, facilmente riconoscibili guardando attentamente il video. Lo spot, diretto dal regista Pierluigi Di Lallo, ha come protagonista una ragazza i cui tratti somatici riecheggiano ed invocano la mila di D'Annunzio e Michetti. La tela e il lino vogliono ricordare la tessitura e le donne che di questo mestiere ne hanno fatto un'arte, oltre alla presentosa, il gioiello tipico del nostro Abruzzo. Tocco finale, l'incedere sinuoso della ragazza ricorda gli spaghetti messi in essiccazione sulle canne, mosse dal vento caldo. Lo spot, che farà il suo esordio televisivo sui canali Sky, è stato presentato in provincia Pescara nella sala Figlia di Iorio. Penso che nella semplicità di questo spot si percepisce proprio la semplicità, l'originalità e la tradizione. Come dicevo, per tradizione intendiamo tutte quelle cose che fanno parte dell'Abruzzo, dalla presentosa al lino, ai tessuti, alla tessitura, al grano, alla luce, al calore e quindi poi per finire all'artigianalità con le trafile di bronzo. Noi ci auguriamo che sia un momento di riapertura e di visione di quello che ci attende nel futuro. Speriamo in un bel rinascimento, rinascimento per tutti. Grazie. 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 Grazie.